A Codrongianos sabato scorso l'Avis provinciale di Sassari ha svolto la sua 54esima assemblea annuale, occasione per adempiere alle procedure burocratiche previste dallo Statuto e per comunicare i risultati riguardanti la donazione di sangue relativa al 2023. Il servizio è di Jenny Carolina Amado Garcia. Raccolte 716 sacche di sangue in più nel 2023 rispetto al 2022 è una delle varie cifre importanti che l'Avis provinciale Sassari ha presentato nella sua 54esima assemblea annuale e svolta sabato scorso a Codrongianos. Questa è stata l'occasione per eseguire le procedure burocratiche previste dallo Statuto dell'Associazione di Volontariato. È un momento importante di condivisione di idee, oltre che per quanto riguarda l'approvazione dei bilanci, la relazione dell'attività svolta nell'anno 2023, che dai dati che abbiamo registrato, abbiamo avuto un incremento di unità di sangue raccolte ulteriormente rispetto all'anno precedente di 716 unità. Complessivamente nel 2023 l'Avis provinciale Sassari ha raccolto 20.176 sacche di sangue, di cui 9.362 sono state donate nelle provinciali di Gallura e Nuoro. Grazie a un lavoro in rete e di collaborazione è stato possibile superare i risultati registrati negli anni 2021 e 2022, corrispondenti a circa 17.000 e 19.000 unità raccolte rispettivamente. Ottimo lavoro da parte dell'Avis provinciale Sassari, a cui io voglio ringraziare veramente tutti quanti per il lavoro svolto in quest'anno. Speriamo di poter aumentare anche con i numeri, perché anche quest'anno abbiamo avuto un incremento anche di donazioni e questo ci fa ben sperare. Durante l'evento al quale hanno aderito i presidenti e delegati delle 35 sedi comunali Avis appartenenti alla provinciale, è stato fatto l'invito alla festa del donatore, programmata per il 16 giugno a Cagliari.